Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica quando l'anticiclone da ovest cercherà di raggiungere maggiormente l'Italia. Quindi ci attendiamo un aumento della pressione atmosferica al centro nord, ancora un po' di variabilità al sud e sul basso adriatico ma ormai la circolazione di bassa pressione perderà di importanza e si allontanerà verso la Grecia. Nel dettaglio possiamo notare come sulle nostre regioni ancora localizzati i piovaschi sulla costa orientale della Sardegna, la Sicilia e il basso adriatico però entro lunedì alta pressione che riporterà stabilità un po' ovunque. In sintesi la mappa dell'Italia, una giornata quindi con ampie aperture del cielo un po' dappertutto ad eccezione del basso versante adriatico e la parte ionica, gli ultimi locali spot piovosi, altrove invece più sole ma clima freddo. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Travimeteo.